Era da un po' che non ci si vedeva, eh? Vi sono mancato? No? Of course not! Beh... Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Zepp89 Vi starete chiedendo come mai non sto caricando Innanzitutto mi si sono rotte le palle Precisiamo, è colpa mia Ho rotto le mie palle Perché sono un imbecille Quando mi alzo il filo Stai meas E a volte mi cinciamash Le notizie finiscono qui Molti di voi avranno sicuramente sospettato in questi giorni Il gioco attualmente, pur essendo non disponibile ancora d'acquisto È visibile sullo store dei cinesi Le cuffie De mie giornate sono giornate Che appena arriverà il corriere con il disco di Gigi Potrò finalmente tornare a fare schifo Allora, queste sono quelle rotte Per precisare se è rotto il microfono Quindi si sente, ma non si sente Sero si Sero si E anteriore Sero si Sero si Sero si Sero si Sero si